Qualcuno ha detto, ennesimo gioco horror ambientato in un asilo con tanto di mascotte dal design discutibile? Perché sì, ne è uscito un altro, o meglio, è uscita la demo di un altro. Ho già paura di vedere che roba sia, aiuto. Oh, ecco qua che inizia il gioco con un bel contratto che io assolutamente non firmerò di mia spontanea volontà. Chi è che mi sta costringendo a fare questa cosa? Ma poi contratto per cosa? Detective. Detective. Hmm, detective di cosa? Di panini? Vediamo un po' questo contratto, non sono molto convinta. L'investigatore è incaricato di entrare nello stabilimento di Maybedee. Maybedee. May...bebedee? Non so quale sia la pronuncia, ma sarà sicuramente una di queste. Fidatevi di me. Formalmente di proprietà della società NeuroWorld. E di condurre un'ispezione completa del sito per accertare lo stato attuale e delle possibili attività illegali. Qui parliamo di attività illegali. Già iniziamo molto bene. Ma quanto mi pagano per sta cosa? C'è scritto da qualche pa... Quanto mi pagate? Oh, quanto mi pagate? Per l'esecuzione del contratto si impegna a versare al detective un importo X da definire in un accordo supplementare. Eccala, questi non ci pagheranno mai, lo sapete, vero? Questo sarà un lavoro completamente gratis, nonostante io metterò sicuramente a discapito la mia vita. Come sempre, finisce sempre esattamente così. Il complesso è stato costruito nel... Non lo sanno manco loro, e quindi l'hanno oscurato. Perfetto. Nella sala principale si trovò un'ampia sala giochi. Sul territorio del complesso è stato costruito anche un asilo per figli e dipendenti. Ari, eccoci con sti Kindergarten! Ma sono proprio fissati con sta roba, ma basta, basta! Non li vogliamo più i Kindergarten! La componente principale del complesso è costituita da una fabbrica e da uffici. Al momento il complesso è in uno stato di semiabbandono. Quindi questa è una sorta di Poppy Playtime che si incontra con Garten of Bamban. Se ho capito bene... Non lo so, andiamo a vedere. Sono molto dubbiosa. Una porta! Si apre? Non si apre, perfetto! Ah no, io sono entrata da quella porta, mi sa. Ops, che ne so, qui espono così, penso che devo andare nella porta, non che mi devo girare e dire... Wow, che bello! Ci sono le mattonelle del bagno di casa mia! Bellissime! Cioè, capito, non ci arriva una a girarsi così. Wow, che bella la pallina! Wiii! Oddio, partita! Scusate, io non pensavo succedesse questa cosa. Mi sono spaventata da quanto è partita velocissima. Questi giochi hanno bisogno di un po' di fisica, perché, cioè, io capisco che è una demo, però ogni volta che io vado in un gioco e tocco un oggetto, quello vola. Cioè, non è così la fisica degli oggetti. Comunque, raga, per una volta, in assoluto, non abbiamo un gioco oscuro durante la notte, eccetera. Ma un bel sole giorno! Sì, moriremo alla luce del sole! Beh, dai, almeno su questo è stato originale. Anche se tanto dentro non ci accoggeremo assolutamente se è giorno o notte, penso. Però apprezzo molto questa cosa. Welcome! Oh, buono, posso avere un frullato? Non è che questo schizza pure, no, ok? Voglio il frulleto! Aiuto! Cos'è? 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 La palla si è mosca da sola e io non ho fatto niente! Che cosa sta succedendo? Ci sono le palle indemoniate! Ma dove devo andare? Vado qui dietro che ho visto una roba che si illumina. Perfetto! Didò mi sa che vuol dire no! Comunque questo detective ha dei passi abbastanza pesanti, eh! Cioè, nel senso, mi sembra un pochino... Un pochino troppo! Cioè, sta smontando il pavimento quando cammina. Cos'è sta cosa? Cos'è? C'ho la pistola! Posso sparare con la pistola! Posso fare il cecchino! Sono il cecchino dei mondi! Adesso cecchinerò quel bicchiere! Perfetto! Cecchinato! Oh, guardiamo un po' questi disegni... Ah, abbastanza inquietanti! Ma perché i bambini fanno così paura? Io non lo so, sono indemoniati! Allora, dobbiamo colpire i tre target! Ok, tutti nello stesso tempo... Ma io non è che sto magica, voglio dire... Ma cos'è questa, la mascotte di questo gioco? Un po' bruttino, sembra tipo un tossa variato... O una mela variata, visto che credo che quello sia un gambo... O è un cappello? Io credo che non posso fare così... Ah, e invece posso fare così... Mi sembrava una cosa un pochino più complicata questa, onestamente... Ma va bene... Perché c'è un muro? Ah, ok... Pensavo che dovessi schiantarmi contro un muro... Eccoci qua! Nel Kindergarten! Ma tutto sto casino deve fare a questo posto? Ma un po' meno! Ma che è? Comunque, scelta particolare, raga, per le mattonelle... Cioè, anche queste sembrano delle mattonelle del bagno palese... Cioè, molto, molto particolare... Allora, la consegna ci dice... Trova la chiave blu! Ma dov'è la chiave blu? Non vedo nessuna chiave blu! Non è assolutamente questa chiave super gigante! Va bene, è molto difficile da trovare questa... Sì, ma a me questo rumore sta dando fastidio! Ha smesso! Ma era veramente fortissimo! Oh, piano, piano, che è? C'è il concerto! Ma dove sono finita? Ma qui i bambini li traumatizzate, altro che... Allora, la chiave... La chiave blu va qui? Perfetto! Che devo fare? Vedo già dei numeri, io non so contare, ve lo dico, eh! Trova la chiave arancione! Ah, così a gratis! Senza fare niente di particolare, meno male! Perché già vedevo numeri, mi stavo già scandalizzando! Perfetto, la palla che è volata via! Allora, se io fossi una chiave dove mi nasconderei? Classica domanda! Proprio con l'angolino, perfetto! Cioè, raga, ormai in questi giochi sono veramente troppo forti! Cioè, ormai non hanno più segreti per me! Sì, ma a me sta musica mi dà fastidio! Basta! Basta, ti leva, ti togliti! Ma che è? Durundirindanda! Cosa dovrebbe essere? Vai! Altro gioco, altra corsa! No, il memory no, però! Il memory non me lo dovevi fare, il memory! No, ma perché devo mettere sempre il memory nei giochi? Chi cavolo è questo? Ma questa è la versione cessa di Agiwaghi! Ciao, Agiwaghi cesso! Come stai? Non è che me magna questo, vero? Ma mi devo avvicinare? Ma col cavolo! Io te sparo! Scemo! Scemo! Sì, sì, slinguazzati! Io scappo! Da quando mi prendi! Da quando mi prendi! Stupido! Allora, che devo fare? Ah, no, non l'ho fatto! X! Dov'è la X? Sì, ma io mi avvicino lì! Ma posso spararci? No, mi devo avvicinare per forza! Perfetto! Allora, faccina più triangolo! Non capisco! Allora, faccina più triangolo! E mi devi dare il tempo! X! Ma lo sto facendo o no? Perché sto gioco mi sembra un po' fatto storto! Cerchio, questo e questo! X! Questo era molto semplice! Ma come non l'ho fatto? L'ho palesemente fatto! Questo e questo! Nice, nice! Faccina, triangolo, ok! Ci siamo! Ehm, tondo, tondo! Finito? You win! I win! Bruh! Mi ha sboccato la chiave! Grazie, Aghiwaghi! Mi ha vomitato la chiave ed è svenuto! Perfetto! Beh, questo mini gioco era veramente troppo complicato! Certo, mi aspettavo che lui mi uccidesse se io sbagliavo! Ma non è successo! Quindi ti metti tanta ansia per niente alla fine! O si sono scordati di programmare il fatto che ti mangia se sbagli! O effettivamente non puoi sbagliare! Allora, vediamo! Devo saltare sui co... Eeeh, che fai? Non ce lo metti? Un po' di platform! E certo, un po' di parkour! Perché in tutti i giochi ci deve essere il memory e il parkour! Io non so che problemi ci hanno questi sviluppatori ogni volta sempre queste cose! Non sono divertenti! Va bene? Non sono divertenti! Ovviamente è easy perché io sono scarsa! Oh, l'hanno fatto per me! L'hanno fatto palese per me questo! Questo non lo posso sbagliare nemmeno io! Vedi che ogni tanto ci pensano a me? Perfetto! Iniziamo molto male! Ma c'è sto sbarattolico che mi sta dando fastidio nelle orecchie! E te credo che è poi... Oh, è finito! È finito mentre mi lamentavo! Perfetto! Sì, ma non salta sto tizio! C'ho dei problemi alle gambe! Dai, ma che è il detective che non salta? No, raga! Cioè, non sono io, ve lo giuro! Ve lo giuro! Non sono io! Non sono io! E lui? Non mi salta! Oddio, mi ha saltato! Ok, ok! Abbiamo preso il ritmo! Grande detective! Grande detective! Dai! 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 E abbiamo la chiave rossa! Anche se nella foto ci diceva che era la chiave gialla! Vabbè, non ci facciamo domande! Dai, è una demo! È una demo! Ci possono essere dei piccoli errori nelle demo! E la rossa dov'è? Questo? Questo tutto nascosto? Mi sono incastrata! Perché si spegne la luce ogni tanto che cammino? C'è tipo... Non lo so, fa flickerà la luce! No, il labirinto! Questo è palesemente il labirinto di FNAF! Quello che io ho odiato tantissimo! Quello che dovevi girare le cose! Molto traumatico! Cosa devo fare? Cioè, cammino e basta? Ma chi è questo? Muori! Muori! C'era il fantasmino della morte! Mi dai noia! Vai via! Mamma mia, sti fantasmini molesti! Mi sono persa! Meno male che c'è il fantasmino che mi dice vieni qui! Palesemente mi sta dicendo vieni qui! Oh, te ne vai eh però! Non lo sto capendo! Ci deve essere un disguido tecnico! Basta si fantasmini! Ma che vuoi? E il fantasmino ancora! Basta! È impossibile uscire da questo labirinto! AHH! 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 Muori! 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 Ma chi era? Ma non muovi ustel! Madonna mi sono presa un colpo secco! Ti levi che mi prendo la chiave! Scemo! Ballerò sul tuo cadavere! Mamma mia! Mi sono presa un infarto! Mi sono persa però! Non è che li sbuga un'altra volta perché ho buttato via la pistola! Ma sta chiave cosa apre? Il mio cuore? Ah ok sono uscita! Io uscito! Mi sa che non posso cittare! Questo l'hanno programmato bene! Ah no! Never mind! Ma con la chiave viola che ce fa? Cioè ho aperto tutto! Quindi i mini giochi difficilissimi erano questi? Io esco! Ma perché ogni tanto se l'avvicina? Fa tipo ui ui! Andiamo se lo rifà! Guarda guarda! Cioè tipo non lo so! Una pressione! Allora! Chiave viola qua! Dammi la sorpresa! Dammi la sorpresa! Ah la sorpresa è dirmi che ho superato la demo! Beh non era una demo molto complicata se devo essere sincera! Ti aspettiamo nella versione integrale! Che sicuramente giocherò a sei tranquillo e sereno! Allora!